La bellezza nascosta è una mostra fotografica di Laura Bronchi e Laura Pezzola in programma al Circolo Artistico di Arezzo fino al 6 ottobre. È una mostra che ha voluto fortemente organizzare la mia carissima amica Paola e raccoglie un insieme di scatti miei che sono fatti nella natura nella quale mi piace tantissimo camminare e mi regala delle emozioni poter catturare queste miniature che sono la perfezione delle piccole cose. C'è il tanto grande come il mare e cose piccolissime come un insetto che è bagnato addirittura da qualche gocciolina d'acqua che a me mi comunica tantissimo. Allora, questa mostra è nata fondamentalmente dall'amore dall'amore di un padre per una figlia e dall'amore per la fotografia quindi l'amore per l'attimo, l'amore per quello che, non so l'amore che io vedo intorno a me quasi tutti i giorni fondamentalmente e penso che sia bello, non è sempre facile trasmettere agli altri quello che io riesco a vedere penso che sia bello riuscire a catturare questi attimi e poterli donare alle persone ecco, lo scopo di questa mostra alla fine è questo donare emozioni quindi se già riuscirò in questo sarò felicissima grazie grazie